buongiorno amici avventureros qui davanti alla punta del terminillo ora in corrispondenza del rifiugio Sebastiani per poi fare la via del canale centrale una via adatta anche a principanti medio livello e qui ce ne sono davvero tanti percorsi anche molto più difficili ora procedo per il canale a 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 chiovento anche se la giornata comunque è bellissima guardate qui che panorama e la salita del canalone fino ad arrivare tra le pareti di roccia scavallare e salire sulla punta guardate che sole quanto di slivello a 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 all'interno e una super zuppa di legumi puma ancora puma a 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 fagioli uovo lenticchie a 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